Il 27 giugno, giovedì prossimo, l'Ordine degli Avvocati di Bari e la Commissione Crisi di Imprese e Procedure Esecutive hanno pensato ad una giornata di studi sul gioco d'azzardo, usura e sovraindebitamento al fine di porre l'accento e accendere i riflettori su questa grave piega sociale, quindi quella del gioco d'azzardo e dell'usura che ha come effetto scaturente proprio quello del sovraindebitamento. Pertanto verranno analizzati questi fenomeni alla presenza di sociologi, di psicologi e anche legali, ovviamente sia magistrati, sia professori universitari, sia avvocati, proprio per capire quali sono gli strumenti di regolazione della crisi predisposti dal legislatore, proprio per cercare una riemersione di famiglie, di persone e di imprese che sono caduti in questa trappola. L'evento del 27 è organizzato appunto dall'Ordine della Commissione Crisi di Imprese e Procedure Esecutive, nonché in collaborazione con l'Associazione Giordano e Rita Atria, coordinata e rappresentata dall'Avvocato Attilio Simeone, che sarà presente ovviamente all'evento. In più con la partecipazione della Banca d'Italia, dell'Università degli Studi di Bari, il Dipartimento d'Emdi e avviso pubblico per gli enti locali e ci sarà infatti la coordinatrice da Roma. Per cui sarà un evento a 360 gradi, dove tutte le varie componenti analizzeranno questo fenomeno. Silvia, il 27 sarà un'occasione unica, penso su tutto il panorama territoriale e nazionale, perché per la prima volta gli aspetti sociali, gli aspetti economici, i fenomeni criminali, perché ricordiamo la mattina abbiamo invitato anche la procura a partecipare, quindi auspichiamo la partecipazione del procuratore per capire come questi fenomeni impattano sull'economia e quindi impattano all'interno dei nostri studi, perché questo poi è il motivo per cui ci ritroveremo il 27, perché dovremmo fare i conti, noi facciamo i conti con queste patologie, con queste dipendenze di massa, ricordiamolo, i pugliesi nel 2023 hanno speso 2.132 euro pro capite nel gioco d'azzardo, abbiamo superato la soglia degli 8 miliardi di euro che sono transitati verso altri lidi, visto che ci avviciniamo alle vacanze estive, sottraendoli ovviamente all'economia reale del nostro territorio e generando di conseguenza delle sacche molto consistenti di povertà e di sovraindebitamento. L'evento è organizzato in due sessioni, la sessione mattutina dalle 9.30 all'1.30, vedrà la partecipazione appunto del prefetto di Bari, del procuratore Rossi, del direttore della Banca d'Italia e inoltre ci sarà la professoressa Letizia Carrera del Dipartimento di Sociologia, ci sarà la dirigente del CERD che ci aiuterà a capire come si crea questa dipendenza di massa, mentre poi il pomeriggio invece ci sarà l'Università degli Sud di Bari, quindi rappresentata dal professor Patroni Griffi e la coordinatrice della sezione fallimentare che ci darà il punto di vista proprio del Tribunale di Bari, nonché i tre referenti dell'organismo che si sono succeduti dalla nascita dell'organismo di composizione della crisi, l'avvocato Regano, l'avvocato Dinnella e l'avvocato D'Amico. Il tutto comporterà tra l'altro, oltre una riflessione, la Commissione Formazione ha segnato quattro crediti per quanto riguarda la sessione mattutina e quattro crediti per quanto riguarda la sessione pomeridiana. Ci vediamo quindi il 27 alle ore 9.30 presso l'aula magna della Corte d'Appello nel Tribunale di Bari. Vi aspettiamo. Non mancate.